a volte mi dicono si flui fort e ci provo poi tac pigirina e a forza di farle che poi mi ha detto la citro soddina no scusa e a forza di farle serenase in un actimel mi so busco fanno un bronchenolo ma non senti che freddo fa zero in olgradio non fa bene a gol oh te finiti fanno un reflector per l'artrosilene ma proprio lì è proprio lì è nantium ma un malos che mi augmente in un moment mi dicono che aspirina mandovi di dici la sony che gli auto san ma fatemi il plasilo vedi che centa linea che cita questi ingapiscono niente e capiscono io sto al multicentrum con la scritta attenti al canestern vigna via qua è buona ma aveva codex sto in una via dritta dritta viagra ciao sto in viagra anche se il mio va ancora supratine è ancora ben active sto con valeriana perché quando mi fissano mi fa bene l'ansio lì infatti gli dico ma sta male che toto la fa non sei anni fa qui sei piena di brufen però quando mi dice resti voil è la luce in dei miei occhi io per lei ho fatto dei voil guarda io ho detto vuoi in aereo dove compro io ho preso in aereo e lei mi fa in aereo sol e beh è meglio in aereo sol che in isomar stavamo stavamo nella stessa aulina sì anche se lei in preparazione h beh totalmente no più brava nella prozac che nella poesia sì io con lei vorrei vivere con tantum verde intorno fumarmi fiori debac mangiare ananas ananase sotto un eucaliptol pure fave di fuga solo che dopo fai a fuga al bagno in mezzo alla vegeta allumina perché come te un di gestivo antonetto un locale coi tavor da fuori più che altro guarda come stanno state tutti fuori coi tavor ma coi tampax che corrono dovuto chiude così in un modium o in un altro che fa la vita più xanax speriamo che non mi pento tale ne vali un la pena optali don panno all'estero a rega che vedo di enteron germina ciao grazie